Ormai nella sinistra siamo abituati a vedere anche dei filoabrantisti e successivamente io presenterò, no, poi voi li conoscete benissimo per la vera però abbiamo sistemato un ordine di lavori di questo genere abbiamo tre relatori di cui siamo contenti e li ringraziamo per essere qui dico subito di volata Mario Di Nunci, la Marinella Correggia e Ugo Gernaggi non dimenticherai neanche la signora G. Marazzani Biscotti perché nel lavoro di Mario mi pare che ha dato un aiuto no, non c'è conoscenza, non c'è conoscenza, non c'è conoscenza non c'è conoscenza, assolutamente, poi quando ci saluterà stasera saremo contenti di questa cosa e direi subito al volo di iniziare con una proiezione una proiezione che abbiamo pensato è una cosa di 10 minuti però serve, serve per capire il terreno su quale ci stiamo muovendo che è un terreno diciamo conosciuto sappiamo che in questi tempi la situazione non è esattamente quella che si potrebbe immaginare solamente 5 anni fa 5 anni fa non si sarebbe pensato a una cosa di questo genere quindi io pregherei di inviare prima dell'intervento, di introduzione per questo film due pesche grazie 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 a tutti. 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 Vi ma stumbled Там outrasryn. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi si sine che non occupi Ira ethicali. Grazie ad onioni per Тernhe dei interiordi che dovete occup interactione di 25 milioni diumea. Sbeta tul in Ju Project di Gallardo di Granoli ora più aiutano di terramadre ச di Iraq. Brazie a Beta. Glioty a Crew Songiji. Grazie a tutti att Krisinando con various contending powers of the concentration of the totals, political support, sub-economic support, military support, divisors, and in extremis, do what we did in Japan in Vietnam, in Iraq, in Afghanistan, spoiling attacks. The spoiling attack is not intended to defeat the enemy. It's intended to throw them off balance. What we did in each of these wars in Afghanistan, for example, is we threw Al-Qaeda off balance. The problem we have since we're young and stupid is that having thrown them off balance instead of saying, okay, job well done, let's go, we said, well, that was easy. Why don't we build a democracy here? This was the moment of invention that came in. The answer, therefore, is the United States cannot constantly be intervening throughout Russia. It must be selectively intervening and very rarely. That is the extreme moment. It cannot, that's the first step, set American truths. And when we send American truths, we have to truly understand what the mission is. We're limited to that and not develop all sorts of psychotic fascism. So, hopefully, we've learned that this time. It takes a while for kids to learn fascism. But I think you're absolutely right. We cannot, as an empire, do that. Britain didn't occupy India. Thank you. Grazie.